per fare sport a tutti, soprattutto a chi non può permetterci e niente, è un'iniziativa che ho sviluppato insieme ad altre persone dalla Fondazione Ferrara Cannavaro a Carlo Palmieri, a Franco Porzo insomma con un po' di sportivi è aperta a tutti quanti per il momento la prima palestra verrà aperta a Soccavo il buon funzionario di Soccavo e cercheremo di far fare scherma che è il mio sport, judo, box e anche altre attività insomma magari se avete voglia potete passare a trovarci grazie e buonasera